Ciao amici, oggi vi presento le cicale. Cantano qui adesso in questa stagione in luglio perché è il periodo degli amori e sono solo i maschi quelli che sentite. Il rumore viene messo tramite degli organi che si chiamano timballi. Una curiosità, non sono bellissime da vedere, però la natura è questa. Andiamo? Grazie. Grazie. Ok, ci vediamo alla prossima e mi raccomando mettete sempre un bel like. Grazie. Grazie.